Siamo con Gabriele Bencivenni, vice allenatore del Montevarchi, siamo la vigilia di una partita che diventa importantissima anche perché non so se definirlo lo scontro diretto. Se non lo scontro diretto no, non lo so, ce lo dirà la classifica più avanti. Il resto di fatto della partita è indubbiamente importante, ma come lo sono importanti tutti. La fermana non è da considerare una squadra che starà nei bassi fondi della classifica solo per il fatto che sia stata ripescata. Hanno fatto la squadra in ritardo, ma hanno fatto una signora squadra. Io una settimana l'ho analizzata, l'ho vista, è una squadra ben messa in campo, ben allenata, che ha buoni ritmi, che ha giocatori importanti, che giovano sulle ripartenze. Per cui è una squadra da affrontare come se affrontassimo la Reggiana o il Siena o qualsiasi altra squadra. Visto che le statistiche hanno un valore relativo, però sarei fatto che il Montevarchi è tra i professionisti e la squadra che ha meno segnato in Italia? È relativo, ma a volte lo acquisiscono un valore assoluto. Per cui il caserino zero è da eliminare subito alla svelta, va velocemente, perché per vincere le partite bisogna fare gol. Al tempo stesso però non dobbiamo dimenticarci la fase di non possesso, continuare con determinazione, cercando anche di rimare quei pochi errori come abbiamo fatto a Siena, che magari ti possono compromettere anche una rete subita. Punti di recuperare qualcuno per domenica? No, abbiamo perso una d'ora di Fiummanò, che sono nelle rispettive nazionali. Comunque questo è relativo, la rosa è stata fatta di 24 calciatori apposentamente per sopperire poi quelli che sono problemi che ci sono durante l'anno. Una vittoria anche per Malotti sabato? Assolutamente, se la merita ce la meritiamo tutti e faremo di tutto con questa motivazione in più, augurandoci che torni prima possibile con noi.